se penso alle storie finite male mi dico che se fossi stata più femmina avrei sofferto meno così laura chiatti sulle sue relazioni passate una donna deve dare sicurezza a un uomo i maschi sono più instabili e noi dobbiamo essere il focolare senza esagerare però se no si accasciano ha dichiarato l'attrice al settimanale gioia si definisce molto tradizionalista sono troppo bucolica e anche nel sesso non mi piace fare confusione so mostrarmi fragile uso tecniche da bambina piagnucolo e il fidanzato cede diciamo spiega che fin da bambina sono stata istintivamente paraculetta per il suo futuro sogna di tornare a fare la brava ragazza di famiglia ma per ora rimane a roma voglio mettere da parte un bel gruzzolo e poi fare un bambino e stare con lui per i primi tre anni perché io mio figlio non lo lascio né alla babysitter né all'asilo ma non sogno di lavorare all'estero il fatto è che sono una capra e non parlo bene né l'inglese né il francese e per giunta sono un po pigra